Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di come sopravvivere a scuola Allora, innanzitutto volevo scusarmi se ieri non sono riuscito a pubblicare nessun video ma ultimamente ho parecchio a studiare quindi non sempre riesco a pubblicare qualcosa Allora, infatti domani non so se riuscirò perché comunque ho parecchio da fare Allora, quest'oggi volevo parlarvi di come vestirsi a scuola Allora, innanzitutto dovete capire qual è il vostro stile cioè come volete vestirvi Quindi innanzitutto, una volta fatto questo, dovete vedere se lo stile di vita che avete scelto cioè lo stile di vestirsi che avete scelto è consola per la scuola perché se ad esempio volete essere emo oppure gotico o generi simili non è potete presentarvi a scuola con tutti i vestiti borchiari o cose del genere quindi dovete comunque vestirvi in maniera pulita e consola alla scuola nonostante tutto, nonostante lo stile che avete scelto quindi una volta capito queste due cose dovete innanzitutto scegliere appunto il vostro stile quindi trovare su internet i vestiti più adatti quindi magari aiutandovi con qualche sito che ne parla e una volta fatto questo comunque cercate di imitare il vostro stile il più possibile allora, vi ringrazio per aver visto questo video che è appena finito mi dispiace se oggi è venuto un po' più corto però mi raccomando mettete mi piace e iscrivetevi al canale ciao a tutti